È stato inaugurato dall'assessore regionale all'innovazione Vittorio Bugli il primo centro regionale italiano sulla cyber security nei vecchi macelli a Pisa, nell'ambito dell'Internet Festival 2018. Il centro toscano è nato dal protocollo firmato a febbraio 2018 da Regione Toscana, Università di Pisa, Firenze e Siena, CNR e IMT di Lucca e ha il compito di difendere la pubblica amministrazione e imprese dagli attacchi informatici, scandagliando la rete e sensibilizzando i fruitori al suo corretto utilizzo. Avere una squadra fatta da tutte sostanzialmente le Università Toscane, dal CNR insieme alla Regione che si occupano di questa cosa con un centro di competenze che noi abbiamo finanziato nella parte di start-up ma che anche in vista delle scelte dell'Europa e sulla cyber security mette sempre più importanza e attenzione, potrà essere finanziata con dei progetti ad hoc, credo sia fondamentale. Proprio a Pisa si è chiuso Toscana Digitale, dieci tappe in ciascuna provincia della Toscana per un confronto sulle buone pratiche in materia di agenda digitale. La cyber sicurezza come bene comune è stata poi al centro dell'incontro che si è svolto alla Scuola Normale di Pisa per capire come istituzioni, pubbliche imprese, università e centri di ricerca possono lavorare assieme per fare squadra e tutelare pubblico e privato sulla rete.